Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, 5 km di coda per incidente tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico. In direzione Roma, 2 km di coda per incidente tra il Bivio con la variante di Valico e Calenzano, Sesto Fiorentino, code a tratti tra Firenze Scandici e Firenze Sud e rallentamenti tra Firenze Sud e in Cisareggello. In A12 incidente tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione Genova. In FIPILI per lavori di miglioramento della sicurezza ci sono 1 km di coda tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno e 1 km di coda tra Montelupo Fiorentino e la Strassigna in direzione Firenze. Per questi lavori è chiusa l'entrata di Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. Sempre in FIPILI per altri lavori, 1 km di coda tra Ponte d'Eraest e Montopoli-Valdarno in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio! Ed è tutto, buon viaggio!